ad essere il governo legge e ordine, ad essere il governo disumanità e inciviltà. E questi sono i segnali, li abbiamo visto sugli immigrati, lo abbiamo visto su molte delle scelte che sono state fatte. Oggi hanno messo il sugello anche su questo fatto, ed è un fatto talmente grave che, come veniva ricordato, lede anche i rapporti tra maggioranza e minoranza che onestamente noi crediamo e speriamo possa essere anche un segno che venga colto da tutti, con un appello che facciamo affinché non si continui a procedere in questo modo, ma che si capisca che ci voglia anche umanità, che ci vuole civiltà, che ci vuole maturità in un paese che ha bisogno anche di esempi positivi. Questa legge è la volontà della Lega di depositare un testo di mera propaganda e strumentalizzazione, perché questa è la verità, lo abbiamo capito anche dai tweet del segretario Salvini. Insomma, se questo è il futuro del paese, allora noi ci opporremo con tutte le nostre forze e con tutti gli strumenti a nostra disposizione.